quel cuo abbassa la voce vabbè bentornati raga niente stavamo facendo il video per l'estrazione del free giveaway per cui avevamo scritto già un paio di nomi ma poi qualcuno ha chiamato il cellulare da cui stavamo facendo il video e quindi abbiamo dovuto rifare cristian saluta ciao anzi esatto la tua manina che si scuote è molto adeguata state per vincere questo e chi non lo vincerà sarà stato molto sfortunato ora come ben sapete parteciperà all'estrazione solo chi ha commentato il video se qualcuno non l'avesse commentato raga l'avevo detto vediamo un po' avevo già scritto alcuni nomi ad esempio qui ho non so se si legge si legge frost si legge genny kitty poi abbiamo che ne so jofiar jofiar si e poi ho già scritto andre d'alo che sarebbe andrea d'aloisio brave pala sarebbe brave paladin brave pala ho già scritto legato ale l'ho scritti perché praticamente prima stavamo a far video e quindi poi sai no ale zamma riccardo condorelli o riccardo condorelli o e cristo e er bengala e marco fusi ora 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 eravamo arrivati Matteo Sanna non l'ho scritto vero no quindi andiamo a scrivere Matteo Sanna come sapete raga io chi sarà estratto riceverà la simpatica lumachina direttamente a casa perché il bacon mi darete il vostro indirazzo e ve lo spedisco questo è Matteo Sanna andiamo avanti abbiamo Robo Così o Robo Così scriverò Robo questo è Robo poi abbiamo quel tossico di Luke 0013 013 013 ed eccolo qua poi abbiamo Shadow Gabriel che scriverò S.H.Gab 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 Andrea e siamo a posto in teoria dovrebbero essere questi ricapitoliamo Andrea D'Alovisio ce l'ho Luke ce l'ho Shadow Gabriel ce l'ho Brave Pala ce l'ho Robo Così ce l'ho Matteo Sanna ce l'ho Ale Zamma Fusi Condorelli Gianni Chitti Legato Vale Bangalabang dovrebbero essere tutti ora per l'estrazione useremo questo cappello però perché è bello beccate questa lima evviva Fiorella i nomi sono un po' pochi perché d'altro canto in effetti è strana la questione del commentare per partecipare ma così è altrimenti avrei dovuto scrivere un pochino di bigliettini che mi mandava per un cazzo quindi ah beh non vale se guardo poi rovino tutto no? Cristian passi con la testa ma che non se vedono beh lo percepiranno come se fai in sti casi ti dici tipo wow se ti dici tipo ahhh ahhh e vabbè the winner is the fusi ho manciato il fogliettino vabbè lo raccolgo dove si sapete meglio the fusi così si sono viste solo di tuoi dita però da mamma vabbè vabbè è uguale eccolo qua marco fusi the fusi a log ora l'estrazione è stata vinta da marco fusi quindi marco fusi si aggiudica questo e e niente mi dispiace per chi non ha commentato che quindi è stato così ballato dalla conga e niente faremo la prossima estrazione il prossimo free giveaway a 1500 iscritti oppure boh a 2000 poi valuteremo in base alla velocità a cui si manifestano mi dispiace per le live che ogni tanto non ci stanno ma è perché tra università mi nonno che balla e i computer che su sambano su sambano su sambano il computer che su sambano niente il bacon quindi fusi mi deve dito gli devo spedì la roba e per questa ragione agiterò le braccia ok un saluto quindi se muovi il telefono peggiori la cosa